Benvenuti, cari telespettatori. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci premendo il pulsante Mi piace per questo video. Vogliamo che questo video raggiunga più di 2000 Mi piace in meno di 24 ore. Le previsioni indicano quindi il ritorno dell'inverno vero e proprio in Italia a partire da sabato 25 maggio 2024, dove una massa d'aria molto fredda entrerà nel nord Italia. Questa massa molto fredda interesserà le regioni settentrionali e centrali dell'Italia con forti piogge che saranno accompagnate da un notevole calo, delle temperature con forti venti e grandine. Esiste anche la possibilità di nevicate nelle Alte Alpi, in particolare nelle Alpi al confine con Francia, Svizzera e Austria. Le zone interessate dalla pioggia sabato 25 maggio sono Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna. Restate sintonizzati per maggiori dettagli più avanti con l'avvicinarsi del periodo.